tutto per quello molto più innocente di te è un losco e dio come sono puro e io so tu dei consigli o anch'io ah che consiglione lei non sarebbe genere quindi io sto dicendo che scrivendo una letter davvero helped sai? io mi chiedo ovviamente è a te io sto dicendo che per me ma non ha sai io sto dicendo che è sempre una cosa buona Come cazzo vuoi? Fai, 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 fai La cazzo me ne fregava Sì, ma non sono proprio il tipo di scrittura Sì, 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 è solo un'idea È solo... In ogni modo, congrats per il bambino Sono davvero felice per te Grazie Basta, mi sono chiuso subito, due secondi Poverino, però mi tratti male, F.A. Cioè Cioè, io ti do un consig... Io ti ho detto di fare una cosa Tu mi hai detto, no, mi sono incazzato Vabbè Vedi mica a trattarmi se vedi tutti così male No, finalmente scendeva sul cazzo di aereo Cioè, veramente non mi ha fatto vedere neanche come aprire il torracaduto, eh? Cioè, io mi butto così al brutto muso? Ah, ecco, no, la violenza sulle scent, concordo Vergogna, fiasco Ok Che codemansiato qualcosa Ok Ehi, posso... Ehi, vai E che ne so che devo fare anch'io Ah, ma devi buttarmi in giro la sera No, bastardo Mi hai spinto, mi stavo buttando giù, eh? Che stronzo, ridi anche E dai, non l'avrei mai fatto Le fai tutte le sergo Ferti denuncio, giusto Ferti denuncio No, aspetta un attimo Vincent, why do I pull the card? Fuck this Nooo Oh shit Nooo Paragodurzy Fia, paragodurzy Fia 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 Un'altra. Questa era l'ultima. Ma adesso è un animale, maleducato. Mi prendi pericolo, vero? Cioè mi sta... Sì, lo ricordavo, c'è nel senso proprio a livello... Qua è dove ho fatto tutta la strada con Arthur? A piedi. Tanto andremo corti da quello che vedo. No! Che farà la ragazza? Ti sei pentagioni che ci incant... Se adesso trovo qualcun altro che ci farà la stessa fine. Oh, è pasta a sganciare tutti i paletti. Non lo so. Questa altra volta. E due? Sarà tappo e valle, eh? Si è spaventato, si è grappato subito, altro che... Perché non l'ho mai fatto? C'è solo noi qua, c'è solo noi. E tutti i tizi delle piantagioni che adesso ci prenderanno. Esatto. E anche DiCaprio che... Che arriva anche lui. Dalla spiaggia. Non ti va a che ridere. Per lo meno quando ci cerca la polizia? Non ci sa mai. Eccoli, coni le chiamate. Comunque, Fea, la denuncia arriva giovedì. Ok, va bene. Vado. Ah, devo mirare? Miriamo? Spara la testa tra tre. Però... No, sta giù, sta giù, sta giù. Giù, 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 giù. Ma non possiamo premere il ride al dietro? Quello più sulla destra. Non so cosa fare. La smetti di starmi piccicando. Andiamo. Davanti l'altro, fermati, fermati. Ok. Posto, posto. No, no, troppo, 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 troppo. Troppo, troppo, troppo. Uh. Allora, tu vai... Di qua. Io vado... Esatto, io vado a destra. No, fermo però, eh. E vai, vai, fai il giro. Aspetta che sta arrivando quello lì, se no mi vedeva. Porcalo. Aspetta, 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 dai. Come fai a tenerti alto-basso? Eh. Ci vedono così fea. Andiamo, andiamo, ora, ora, ora. Come faccio a uscire la strada? Aspetta, aspetta, aspetta! Ci sta... Ti ha visto quello là? Allora... Via, para, para! Mostra, mostra, spara. Non ci faccio niente con sta arma. Cos'è sta arma qui? Ok, come l'ho andato. Stai preso il pistolino. Rotola! È colpo alla testa. Rotola! Rotola! Prendi, rotola! Ok. Non posso aprire niente. C'è qualcun altro, io te lo dico. Le denti e coccolose. Perché partirei da andare, eh? Ma di qua siamo arrivati, fea. Ah, va, no, di qua. Ah, no? Sì? 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 Come una lattina di tonno. Vai. Cieco! C'è un cieco! Alza una delle tavagliette. Pò. Non sa l'idea. L'ho vista, grazie. Ma cosa stai facendo? Non penso che puoi ucciderlo. Fea, puttana. Provato! Va così precisa, st'arma qua. C'è di far sagoma. Rotolo, rotolo. Rotola! Occhio, eh. 3, 2, 1. Via! Via, 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 via! Purtroppo ha trattato e ha fatto il pelo. Fatola! Ah, shit! Vincent! Get over here! E come si entro? Schiacciando. E qua, eh. Se l'ho troppo vicino, me lo dà. Come vuoi entrare in un buco? Un buco, 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 buco. Qua cosa c'è? Vado a vedere su, vado a vedere su. È qua sopra, è qua sopra, è qua sopra. Non è vero, non so. Vado a vedere cosa c'è sopra, qua. Tu mi raccomando. Apri la porta. Distrailo. Più la porta, mi ha sparato. Ah, tu vedi per forza. Lo distraiamo, per favore, eh. No, fai niente. Posto. È così difficile, non lo so, eh. Oh. Posto. Ma devo farlo io veramente cecchino? Ma no. Mecca uno. Ok, bravo. Basta. Vai. Basta. Protola. Arriva un altro. Uh, questo è smirato. Ok. Non lo vedo, dov'è? L'ho visto? Uh. Guardaci. No, spazio. Vai giù. Sta giù. Questo non lo vedo io, ce n'è uno lì. Si è spostato, stanno dietro i cosini. Sta per arrivando, non lo vedo. Mi ha trovato in faccia. Ok. Protola. Vai, non vedo nessuno per il momento. Munizioni qua. Non ci servono. Arriva dall'altra parte. Ah no, eri tu, cazzo, stavo sparando a te. Ah, che? Ma dai, mi scivola il dittino. Muoviti. Uno non riesco a prenderlo, penso. Bravo. Non vedo più nessuno. Muoviti. Ok, rotola. Oh, sì che lo vedo uno. Leo, cover me. Eh, porca miseria. Ma ora che difficile mirare queste robe qui, eh. Con questo cazzo di mouse. Con un giocchiopino qui. Chi è? Ma assomiglia a lui. Ok. C'è un altro. Se si è sparato sei colpi, hai morto dopo. Ok. Basta, penso che siamo. Il dittino supremo. È una freccia, vado verso la freccia. È una freccia, io... No, no, solo lì. Guardalo lì, guardalo lì, che cazzo dai, guenini. L'altro su un alto. Eh, non so, quante volte ti do a sparare in faccia. Ma come oscilla? Oscilla. Oscillao. Posso? C'è un altro su in alto? Sta correndo. Sta rotolando. Rotola, sprint e rotola. Via, un altro. Rotola. Ok, arrivo. Amico carissimo. Com'è morto male questo. Ah, ciao. Sto scendendo all'altro lato, perché? Anch'io. Ah, ok. Qua dobbiamo... Salve. Dai, tiriamo su questa porta. Noi quando vediamo la porta... Noi tiriamo su. Eh, o altro onde? Chi siamo? C'è qualcosa dentro la macchinina? Niente. C'è qualcosa qui? Niente. Andiamo. Niente, punizioni, kit del medici, niente. Eh? Che scherzo! Eh, è uno scherzo, quello è buono. Devo fare tutto un giro? E che parte facciamo un giro? Andiamo in su? No, andiamo in giù. Eh, è chiuso, no? Sì, andiamo in giù, giù, giù. Cosa abbiamo visto di bello per il momento? Gente che ci sparava? Sono davanti a te, ma ci vedi? Non lo so, c'è la cataratta. C'è due volte che mi guardo. Non c'ho più il cieco, eh? Porca vera. Eh no, difatti. Perché ho lasciato il cieco lì? Ivel, t'hanno già visto. Oddio! Dov'è stendata? T'hanno visto tutti. Mi sta facendo arrivare. Andando, fea. Madonna, io con questa armacola distanza ci faccio un cacchio, eh. Ma quanto... Au! Andando, fea, fea. Ok, vado. Arrivo, vado, vado, vado... Un brutto muso. Mi serve fare qualcosa. Arrivo. Ok, morto. In alto. In alto mi spara. Adesso, craccato, craccato. Craccato, craccato. Craccato, craccato. Morto, morto. Morto, via, a posto. Morto, là. Come si pinga? Come si pinga in questo gioco? Stanno sparando? Non mi hai sparito. Ah, ok. Stanno andando via? Sta scendendo, sta scendendo, guarda lì. Non lo prendo, non lo prendo. Rotolo, rotolo, rotolo. L'ho preso? L'ho craccato, l'ho craccato. Ho finito, giuro. Eccolo. Raga, rubate lo zucchero. No, no, è troppo vicino a questo. Aspetta, aspetta. No. Guarda, si è cresciato male. Non pensavo te lo facessi tu quando da sinistra. Non andare avanti così. Ah, giusto, ragione, ragione. È brutto vizio il mio, comunque. Vado di qua. Di là dove? Tu vai di lì, vado di qua, va bene? Va bene. Sento che uno ci sta indicando. A te, a me no. Sento, me la casetta, cerca la dinamite. Vero, cerchiamo la dinamite. Fea, linea. Ah no, ma cosa mi ha fatto? Vabbè. Spara. Caso, sto caricando. Ok. Madonna, forse è esagerato buttarmi in mezzo così. Cazzo male. Ok. Vai, su, su, su. Ok. E sono? Sopra, in alto, in alto, in alto. Non posso pingartelo, davvero. Eh, lo so. Avevo un attimo di pingamento compulsivo. Eh, 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 eh. E' uno in alto, là dietro. Possiamo farlo fatto fuori. Tira fuori la testolina. È morto? Vado su di qui. Sto salendo le scale. Sto salendo. Senti, ti ricordo che fu... Aveva il cannone. Arrivano dal mio lato. Arrivano dal mio lato. Ecco, è questo. Ecco, è questo. Lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi. Sto arrivando. Dammi due secondi. Imbosca, ti imbosca, ti imbosca. Ti do fuoco di copertura. Ti do fuoco di copertura. Oltre le... Ah, sì, l'ho ucciso. Perfetto. Ci stiamo avvicinando alla realtà, Connie. Guarda qui. Eccoli. Oh, cacchio. Posso riscaldare il barile? Oh, cacchio, che male, no? Magari. Non esplode il barile. Non esplode, no. No, no. Come correva felice, giulivo, quello lì. Porca miseria. I scontri corpo... Sì, come si chiama? Foco... Ok, rotola. Rotola, sprinta. Andiamo. Non possiamo aprire qui? Niente. Via, torniamo su qui. Va che effetto metallo. Effetto figo. Non possiamo salire di qua, però, eh? Dobbiamo salire di qui? Ah, vale. No. No? Rotola. La parte deve andare. No. Ah, no. Mi devo fermare. Vabbè, torniamo a casa, vai che cazzo che sia. Qua sotto? No? Dov'è la dinamite? Ottima domanda. Magari ci serve a saltare la roba? Che strano. Mi fa salire. No, beh, ci sono le frecciate anche qua. Macchina? Non è andato niente. Lo zucchero l'abbiamo lasciato di là. Lo zucchero l'abbiamo lasciato di là. E vabbè, il tempo passa per tutti. Avranno perso un po' del loro... Ma dov'è che devono andare? Ma che cosa dobbiamo fare? Se è buggato qualcosa e... Non ti fa sparare i cadaveri? Come mai? Che strano gioco. Ah, guarda qua. Andiamo. Ah, beh, allora. Ah, ecco. Tra l'altro un cancelletto che si è rotto... Una recensione si è rotto proprio... Un secondo. Potremmo squalcare l'altro mezzo. Oh, che arma mi fai prendere? Finalmente. No, mi tengo a questo. Guarda sta roba qua. Aspetta, ti lascio giù... Se vai via, ti lascio giù l'altro. No, no, beh, tengo questo. Però non riesco a vedere. Cos'è un cecchino quello? Un cecco! È un cecco! È un cecco! È un cecco! Non lo voglio io! 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 Ciao, Coni! Buon pranzo! Vabbè, allora sai cosa ti dico? Grazie per la compagnia! È un cecchino! Prende il pompa! Ragazzi, Fea prende il pompa! Ecco! È lui, è lui! No, non me lo ricordo. Può essere lui, facciamo finta che sia lui. Cosa facciamo? Dall'altra parte devi andare però. Dove? Di qua devo andare, penso, no? No? Perché mi ascolti? Perché mi... Ma no, sei qua! Guarda, guarda, guarda! Ah, beh! Beh! Ah, beh! Oddio! Per... Vai! Eh! Qua è proprio un momento di guerra... Ah, ma no, mi vado! Ciao, Coni! Buon pranzo! Dove sono io? Ah, ma... Ah, ma... Ah, ma... Ah, ma... Ah, ma... Ah, ma... Non pushare più per davvero il cielo. Devo far qualcosa, evidentemente. Devo spostarmi da qua feo, aspettami Nooo, l'avevo trovato, cosa dovevamo fare? Va bene, continua a spararcela, vai La bombola del gas Pronta a sparare la bombola del gas? Aspetta, aspetta Ce l'hanno morti? Vabbè Vabbè Dai, c'è da sollevare, dai, dai Eh, un attimo, ho t'ho coperto, sono arrivato, ho dovuto esplodere, è molto difficile E poi me lo lascia tutto su di me E poi mi viene all'obbalgita Vabbè, mi sembra giusto, no, no, no Io sono dietro un... Mu è disgraziato Mu è disgraziato Uh, no, c'è qualcuno che spara da lì, eh, pea Eh, sono andato a prenderlo Oh, non ne vedo uno Ma, davvero? Ma, vabbè, allora Ok Prima erano tutti da lontano, c'aveva la mitragliezza Sì, ma davvero? Ma porca miseria Ma perché se... ma io non lo so Rotola, rotola Cioè, adesso che sono tutti avvicini Mi ha preso il cecchino Oh A posto, a posto, ne manca uno, eh Lassù in alto No, eh, cos'ho? Eh, il cecchino, no, a meno quello Oh, non l'ha preso Ok, è andato Dietro al cosino Prendevo solo il metallo Oh, oh, oh Siamo Molto difficile, ragazzi Qualcuno dovrà per fare Stai facendo tu quel verso, vero? Sì, sì Ah, perché ci sono? Che cazzo È arrivato Eh, scarpe Ok, ok Rotola, rotola Ok Mi dici come? Mi sto sparando Mi sto sparando Dove, dove, dove? Ah, niente Non l'avevo visto A colpa mia Mi sono nascosto E quello che mi ha sparato Non lo vedevo Allora, io vado a sinistra Vai dove vuoi Io sparo Ok, due te li ho fatti fuori Non riesco a prendere quello in alto Che lui Uno a caso Sparato L'ho ucciso Attento Non lo vedo Io sparo Attento Disgraciato Davanti a te Fermo Dietro Non lo riesco a prendere No Sei pushatore Io push Eh, perché se sto fermo Quello mi lancia le granate Sì Ecco qua Pusho anch'io allora Uno Mierda Mierda Ho preso il tizio Uno dei tizi Vai, bravo, bravo, bravo Ce la fai da solo? È arrivato gente Lui è qua, fermo Io sto meglio Su, falli fuori tutti Arrivo Io lo tengo qua Non è un problema Arrivo Adesso c'è uno, arrivo Ok No Oh Ma mica non è un problema Non lo so Sei liberato Va bene Pushato troppo Andiamo assieme Assieme Porca miseria Traballo Barcollo Ma non mollo Carico Vai Ne arriva uno Te ne ho uno in alto Uh Io Aspetta Aspetta che faccio fuori Quello in alto a sinistra Ok Andato Non lo vedo Non lo vedo Con un alto Uh Mi devo riprendere Mi sa che muoio Non lo prendi Mi sposto Preso Lo scello Adesso Andiamo E' sulla sinistra E' sulla dietro Di te Vabbè Ma c'è Beh Qui c'è Ok Dietro il cosino Hai ragione Hai ragione Oh Chi è Highlander Guarda Guarda Me armi D'altronde Ogni tanto Sbaglio Con le parole Di troppo Così Si madonna Guarda Guarda Allora Lì davanti A te Uff Ok Ok Ci fidiamo lo stesso? Bene Che facciamo? Vai tu? Chi va? Vado io o vai tu? Dimmi Vai Scegli Vai Vai Vinse Vai Oh Ma come? Attenzione Questo è un momento Epico Vai Spara 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 Cosa è così? Cosa è Cosa è Spara Spara Vai Beh Prima mi dà il diamante Poi uccidiamolo Certo che si Ci teniamo anche la villa Eh scusa Perché buttarla via? Bisogna riparare un po' di buchi Vabbè Un dettaglio Ti ha rovinato il soffitto Sto deficiente Eh Questo è stato più Ci sarà dentro una pistola Eh Idioti Due No Due Idioti Ok Devo tenere la mano sul pad Perché succede qualcosa Aia Ah Mi fa sparare Non è che volendo La porca miseria Mi mette la croce rossa Quando devo spostarmi Spassati Non mi fa sparare Non mi fa sparare Non mi fa sparare No Corpo a corpo Provo ad andare a fare corpo a corpo Bravo No devo spostarlo tutta a destra C'è uno spingi Guarda eh Guarda guarda Non mi fa sparare Non mi fa Ma sta morendo Sparagli Vai Tutte e due No vabbè Dov'è 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 La piscina No Cacchio Devo far pulire anche quella Dov'è E' morto No 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 Vai 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 Dov'è 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 Piscino Questo Oh Flora E poi è bella Ci hanno fatto un paio di risate In questo gioco Dio Oh Dio Madonna mia Mi sparano Sono appena dietro a uno io Cosa fa? Oh è tutto rosso Sto morendo Sto morendo No sono bloccata Si è vangata così Ma si è bloccata male C'hai visto? Non è come la barca Ma no ma no ma no ma dove vai Sono imbalzato sulla pietra malissimo Oddio Si ho la patente ma se l'ho bloccato Vincalo Non di certo della moto Ho la patente Non so dove sta andando ma sto andando Ma io sono andata dalla parte opposta No astardo Ce l'ho dietro ce l'ho dietro Mi sta facendo malissimo Ma va che cosa carmi Smenti ma che roba Ma no Stavo per fare Stavo per fare una cosa figliissima Mi hai bloccato la mia Ma no ma dove va Ma no ma dove va Ma no Ma no Ma no Ma che cosa Dai armi ci Ma che roba Ma che roba Ma cos'è sta roba Oh che fea Oh mi sono incastrata ma cos'è Mi smettila di incastrarti però Fea mi sono in una strada No sei tu che mi vieni addosso Forca macchina Se no non ce l'ho starà Fea 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 è voluto E sono anch'io a destra comunque Un cazzo Ci vedo qua No dove va Ma che ma cosa sai Hai visto sono proprio Qui guarda che ci vuole esperienza A fare questo antivie Non so cosa sto facendo Ma cazzo Oddio Sono sotto un cacchio No Ok Eccomi Arrivo 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 E sto sparando Di qua Ok Passiamo di qua Ho preso l'ho preso Ecco qualcosa lì C'è un aereo C'è un aereo 9 Sto caricando Carico Antonia che è difficile Tenere cita roba qui Ok l'ho tirato giù ok sto caricando madò madò ok cosa sto per fare vado dammi la mano ci provo guarda che figlio oddio si è fatta e ci risiediamo come prima noi siamo sporchi siamo fratelli però adesso vabbè adesso vabbè adesso è da girare ma dove li prendi tutti i soldi vabbè siamo fratelli ormai sai cosa credo che scrivo questa letter a carol io ho idea è una buona idea hey emily hai una penna e paper? aspettate ora ovvio ovvio è una lunga via hai qualcosa di più a fare? non ti mi piace è di più non ce la faranno sentire no dai me la fanno comporre dai dai immagini carissimo carissimo Pinocchio amico io dormo non ci ho altre da fare ma hai bisogno di più uno più Artur oh cosa c'è? dai su stavo dormendo siamo arrivati aspettate la polizia poverina è solo un pochino coi capelli corti armi non piace la donzella qui guida l'aereo non lo so aeroplano aeroplano effetti di ray tracing no vero? porca miseria torniamo in galera in gatta buia ci stavano aspettando in pochi? chi è che c'ha tradito ancora? la tua? non lo so magari armi non è stata lei si è stata lei che bastardo anche questo ti tieni di avanti? tutti stanno sotto bravo 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 ma certo quanti poliziotti? nessuno nessuno ma ti l'hai presa e ha lampadato in testa ma è stato vero corrotto? ecco buon lavoro Vincent come mi lavoro? ma hai tradito? mi hai tradito? ma mi spari? ma non so però sappiamo che non sei stata tua l'ammazzato voglio dire no? eh ho capito ma perché? si è rimasto malissimo guarda la castina guarda la castina ci è rimasto malissimo un pulotto mi sono no un pulotto guarda mi hai tradito così un'altra denuncia si armi no 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 No, non credo a nessuno, mio franzo. C'è stato un piacere, sono un piacere. Sì, sì, sicuramente. Sì. 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 No, no, è proprio un poliziotto. No, no, non è che l'ha fatto per il figlio. È un poliziotto, quindi per quello che non gli rispondeva neanche... Non gli rispondeva neanche di chi era l'aereo e chi era sta stronza. Sono rimasta malissimo. Ah, questo è un poliziotto. Sono rimasta bene. Sì. Si, sì. Ma gli ha sparato in testa! Sì. È morto! Sì. No, per mera vendetta, Armin. No, per prendere quello là. Tu sei in grande problema, tu capisci? Onde è Harvey? Onde è il blanco Orlov? Tu sei, morto? Eh, sì. Tu pensi che sei divertente, non? Tu pensi che puoi andare e vendere in una strada? Che tu stupido? E tu, stupido? Oh, ma mi sono sentita tradita davvero. Tu capisci? Beh, ma adesso devi dare di me far ammettere una buona parola e la far tirare fuori. Ci sono rimasta malissimo, giuro. Ma l'aspettavo da te, fea. Amici, amici e poi dindi. Madafaka. Ah, neanche io ho l'aspettato? No, fea, ma è curata la bici. E' un po' di più. è morto perché di me, io ho messo in quella situazione, io ho bisogno di fare questo, e tu lo sai. Questa è un blastero. Ma che cosa succederà, James. Tu è sotto arresto, Leo. È finito. Nessuno si muove! ah spingendo tu si ahahahahah sit put the gun down now you don't have to do this you gotta pay for this get in the fucking car go adesso guida tu guida eh fea eh no mi calmo no cazzo mi faccio calmarmi eh me vado a dire il tuo disculpa cosa facciamo just shut the fuck up 快說講 stop the car and let's talk this through there's still a chance for you to do the right thing the right thing huh the only right thing here is me pointing the gun right out of your face so shut up I'm really sorry for everything please stop the car sorry I can't believe you you fucking ok ok morriremo malissimo si ok 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 i ok come 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 ecco the millstones È tornata la Valdracca! Quasi sta la Valdracca! Oh no! Sta calmo! Oh mi stai facendo malissimo! Nooo! Bastardo, tu hai il mouse! Allora! Porca pupazzo, mi stai esplodendo! Nooo! Bastardo! Ok, ti posso dar quel morto, dai! Armi, mi ha tradito malissimo! Meno male che hai la catarrata! Guarda che sono ciecato! Allora! Allora, vedo benissimo! Ma sei proprio lo sponso, eh! Ok! Dai, Leo, andiamo! Leo, muoviti! Ti devo prendere o ti lascio andare? Speriamo che ti cagli adesso un piccino! Eh, 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 eh! Allora! Come on, hurry! È in due contro uno! Cioè, qua stiamo proprio a raggiungere! Allora, sono poliziotti! Vabbè, ti uccido una mica adesso! Andiamo se riesco! Allora! Ci sono due ascensiare! Questa è una nuova ascensiare a destra e una sinistra, che so! C'hanno i soldi! Porca vacca! Faccio fuori, la faccio fuori, giuro la faccio fuori! Fuori qui! Andiamo! Non fai nulla cosa stupida, Leo! Calma! Non fai nulla! Non fai nulla! Non fai nulla! Solo fuori! Vieni! Non fai nulla! Non fai nulla! Questo è tra me e Vincent! Non fai nulla! Non fai nulla! Fuori! Fuori! Mi ha tradito, eh, chat! Fea mi ha tradito! Malissimo! Mi sono sentito umiliato! Mi sono sentito umiliato! Fea non parla più! No, no, io sparo! Non fai nulla! E' brutto! Non fai nulla! Non fai nulla! Non fai nulla! Ma davvero? Ma la smetti! Ma la smetti! Ma le maroni! No! La parte è chiusa! Ma non si può far scontrare due amici! E' un 1v1! Ma vero, hai già fatto malissimo! Non mi si aprono le porte! Non mi si aprono! Mi devi affrontare! Ma perché io non uccido gli amici! Ma che differenza, però! No! Capisco dove cazzo siamo! Ma chi? Non capisco dove sono! Figurati tutti! Sì, ma pare tenete un cheat! Giocare in fight! Eh, lo so! Diglielo! Ah, ma ti sei curato! Ah, no, anche pure! Ma come faccio a curarmi? Cos'ho le piastre! Non mi sembra di essere! Ma in due zone separate? Non mi sembra di capire! Putana Che se vuole fare non sei male cazzo ma io cazzo non vedo più che armi hai che fa tipo un rumore lontana è stato malissimo mi stai dicendo perché così comunque riesco a vederti un pezzo non ho una granata a lanciarti io non capisco poi fagli finire le munizioni non finiscono ma non siamo nello stesso posto si ma siamo divisi ah non si fanno andare non è la sua stessa ho vinto ma anche perché non capisco davvero dove sono ok non posso farlo non posso farlo fuori 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 ma io ho tipo ma sei quattro ore sono tre giorni sia riuscite a prendermi via che cazzo sei riuscite a prendermi riuscite a prendermi rotolo rotola rotola riuscite a prendermi che errore che errore che errore riuscite a prendermi wow quello è un bel chunk di salute perché allora qua c'è la sensibilità di uno che si è sentito tradito e di uno strozzo traditore è un polizio è un polizio è un polizio è un polizio stop hiding you coward I will catch you allora gotta find him can't let him go cazzo no eh però non mi hai ciso tutto bastardo muoviti vai bravo adesso ci troviamo allora perché sono in alto su su è seconda fase dice che si sta disconnettendo no dai ho chiesto dove questo figlio è alto ho chiesto stai ancora d***o ho chiesto ti senti cosa succede a me che momenti brutti cazzo sto morendo ragazzi ma io non mi ti faccio prendere questa è la storia dell'amore del poliziotto che tra l'altro che tra l'altro non ti fanno uccidere cioè ti tolgono c'era ancora doveva finire così probabilmente avrei fatto il contrario devi morire adesso Geo fea così eh fea mi fai schifo giuro eh sì eh beh ma anch'io mi faccio schifo eh ma di non farlo a più non mi si tossico tre armi niente niente momento di accrescita ecco eee olè moriamo tutti e due incredibile che non ma ti avevo preso incredibile che non faccia vincere la stream non riesco a lasciarmi p***a no eh qua occhio di vince qua qua cazzo qui ci ho dato è morta male male no ma ho preso l'X p***a io vado corpo a corpo perché eh eh primo già ecco ti amo mi sento affaticata io cosa stiamo facendo oddio ci prendiamo a pugna adesso fia col turband cosa fare ma non mi hai fatto neanche parare ma che senso ma che senso sta roba qua adesso tocca a te non so ci è voluto bene sapi mi hai tradito così c'è i tradimenti non funzionano sto benissimo rispetto a te cos'è sta cosa perché doveva non capisco ma poi scusa non è che proteggere ce le devo prendere in sostanza devono prendere tutte e due sì ognuno c'è il suo flashback è proprio Arthur e Dutch comunque con Mike ma cos'è ma che momento triste mi fidamo di te moriamo tutti e due cos'è sto posto orrendo dove le portate a mangiare non c'è nemmeno una tovaglia fia si sta tirando indietro non si mette più dentro nel personaggio oh vabbè mi ha fatto male mi stanno picchiando mi ricordo mio figlio lo aiutavo mi sento triste non posso vivere nel carrettino alzati lì oh da porca misera alziamoci puoi fare ancora la scelta giusta fa anche te un po' di gariera un gariera ma hai tradito il tradimento è la cosa più brutta che ci sia al mondo cosa c'è no un picchiarla può ancora fare la scelta perché io vado così niente ah perché sono assoluti ma dai perché sei così lento ma come sei muoto ma perché sei lento è mio perché sono no Pea cioè sei Pea se mi spari se Pea un po' più basso così non mi uccidi non puoi che ero più basso eh vai devi farlo mi sapeva no sì devi farlo ma no va avanti no no devi andare mi avrai sempre sulla coscienza questi sono gli amici 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 poi dream dream what the fuck forse potevo mirare solo lì è un po' questa cosa che a un certo punto ti incanare nel binario mi sto morendo per spararti una gamba sinceramente eh guarda 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 cosa oddio mi batta il cuore che cosa bruzza ti verrà nel macumpe più brutta di tu la cuba è brutta davvero? adesso cioè mi fai morire e poi mi tieni la mano mentre muoio? devo anche non dartela qua è una figlia no è nel film nel gioco è una figlia è una figlia è una bambina è già vero cioè mi hai ucciso non ci sono più è tutto nero sei un po' una merda comunque io te lo dico non a te al pg mica a te no non mi hai lasciato molta scelta comunque no troppo a tua hai coraggio di andare anche da mia moglie e da mio figlio tanto loro non lo sanno che ti ho ammazzato tanto non te la dà sappilo comunque come fa a guardare in faccia il figlio è giacca a palla Alex fai fare giacca ok vuoi giocare? non adesso bambina bisogna parlare ok adesso mi fa fuori lei immagini proprio il finale carmico no perché non glielo disse l'ho ucciso io figurate buono bimbo poi se il papà è così cretino che ma no tipo Kill Bill sì allia è tocca Lui sa Oh ma io mi so se si dà tradito davvero Cioè non me l'aspettavo È già abbastanza la storia Sì Ma secondo me se fai delle scelte diverse Cambia la finale Dici? Non so bisogna vedere magari Io ti cerco Fè è così dice Un po' infame Ma dì c'è rimasto Giuro c'è rimasto malissimo Beh se rigiochiamo quella degli spari Ammazzi tu me Dici solo per vedere la fine Vedere com'è E lui andrà a parlare con la moglie Dici? Beh Sarebbe bello vedere solo come funziona Al contrario Oh no Logica un po' tardi No beh sì certo Un po' tanto Mamma mia Mi sapevo di essere Secondo me il figlio si vendicherà con fuori Ah però va dalla sua vero? Se gli dai la lettera ti sputo in un occhio giuro Si può ricaricare il salvataggio? Penso di sì Non te la meriti Gli infami soli devono rimanere Ma per amor di dio Non mi fai tenerezza Non mi fai tenerezza Ma è sari cosa? Ma è sari cosa? E io sono lì Nel cimitero Mi sento anche un po' triste guardando Non ti senti un po' triste? È in colpa soprattutto Non ti senti un po' triste guardando Finito Connesso con Ferrandi Non voglio vederlo letto io E soprattutto Cosa abbiamo capito Da tutta questa storia? Amici amici Dream drink motherfucker Abbiamo scoperto Che Fea Mi uccide sempre Infame Basta Fea Che te siamo ritirati Uno che si chiama Leo Caruso Non può morire Lo dico anch'io Va bene ragazzi Spero vi sia piaciuto Fea È stata bella il finale Bellissimo Io non giocherò mai più con te Va bene Ok Oggi pomeriggio si destra Mi sento tradita Comunque devo essere Allora Mi sono sentita tradita Cioè quando è successo Si ci sono rimasta male Quindi fatto bene Vi auguriamo buon pranzo Non penso che ci sarà qualcosa alla fine dei titoli di coda No lo penso anch'io spero Noi ci vediamo più tardi ragazzi Penso più tardi Buonanotte a tutti No Era ieri buonanotte Oggi è Buongiorno Buon pranzo Buon pranzo E ci vediamo dopo Pensate al tradimento degli amici Perché è la cosa peggiore Trim drink motherfucker E Basta Buon pranzo Ciao 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 a tutti Grazie a Fea Dandil Che non avesse seguito Fea nel cuoricino Su Fea Dandil E ci vediamo Perché i miei moderatori Non ci sono Quindi ricordate Fea Dandil Ma siete tranquilla Ciao 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 A dopo Ciao Ciao Non partirà mai Perché non partirà mai Non posso uscire Vabbè salto Scusate Salta un attimo E cosa succede? Sempa Ah ecco Posto Ritorna Ritorna Ciao ragazzi A dopo Ciao 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 Ciao